Supporto base di raffreddamento per PC portatile, molto stabile, ventole molto silenziose, in più ha una base di supporto per lo smartphone, comodo, anche da portare in giro, molto utile, consiglio questo articolo, in più è Prime, buona la qualità prezzo. Vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon. Grazie a tutti.